Il nuovo ospedale di Padova nelle intercettazioni dell'inchiesta sul consorzio Venezia Nuova, una cena che sarebbe stata organizzata ad hoc per far quadrare i conti intorno al progetto del nuovo ospedale di Padova lanciato dall'ex governatore Giancarlo Galane, accolto freddamente dal suo successore leghista Luca Zaia. E' quanto emerge da uno stralcio delle intercettazioni della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sul consorzio Venezia Nuova che ha già fatto finire i domiciliari, fra gli altri, l'ex presidente Giovanni Mazzacurati per turbativa d'asta nell'ambito del progetto Mosè. E proprio Mazzacurati insieme a un consigliere avrebbe invitato a cena il 7 giugno 2011 al ristorante di lusso Le Calendre di Rubano, l'allora sindaco di Padova Flavio Zanonato, il rettore dell'università Giuseppe Zaccaria e l'ex segretario regionale della sanità Giancarlo Ruscitti. Una volta i compagni andavano alle feste dell'unità o nelle bettole, poi hanno fatto carriera, commenta il presidente dei senatori della Lega Nord Massimo Bitonci che ha presentato un'interrogazione parlamentare per i ministri Alfano, cancellieri e per lo stesso Zanonato. Cosa c'entra? Una cena in un noto ristorante padovano, molto famoso e costoso, dove si concorda il futuro della sanità padovana insieme a degli imprenditori che poi sono stati arrestati per una storia che tutti conoscete, insomma, di appalti e di tangenti. Adesso vogliamo assolutamente sapere quali sono i rapporti dell'ex sindaco e ora ministro Zanonato con queste ditte e con queste persone. Sono fatti estremamente gravi, noi crediamo che la politica deve essere pulita, trasparente e fatta da persone oneste. Vogliamo anche sapere chi ha pagato il conto di questo notissimo ristorante di Padova. Io penso che debba essere svelato tutto ciò che è successo e cosa c'è sotto a questa inquietante storia. Io penso che le riunioni vadano fatte nelle sedi apposite, vadano fatte in regione insieme con il governatore Zaia, invece sono fatte fuori da questa sede competente e vengono fatte nei ristoranti dove si decide il futuro anche di scelte importanti e politiche che riguardano tutti quanti i cittadini. Quali sono gli interessi che ci sono sotto? Questo lo chiediamo al ministro dell'interno ma non solo. Vogliamo delle risposte soprattutto dal ministro Zanonato che già qualche anno fa era stato sfiorato da un'importante inchiesta relative ad appalti e mazzette dove è stato poi anche accertato che lui ha portato alcune di queste borse. È una cosa sì di qualche anno fa però ha una importanza e rilevanza. Grazie a tutti.